...ra ragazza. Ok, chi è il prossimo? A dire il vero, prof, io avrei riscritto un po' del tema di X. Vorrei presentarlo, se posso. Skull, che stai facendo? Dovni? Beh, sai una cosa, Xy? Anche io ho dei sogni. E posso essere uno Skylander senza di te. Quindi è esattamente ciò che farò. Di che stai parlando? Chi è sempre lì quando dimentichi un incantesimo nel pieno della battaglia? Io! Ciò significa che conosco molti incantesimi. Davvero molti! E questo mi libererà dal dover essere il tuo familiare per sempre. No, 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 Skull. È davvero una pessima idea! E va tra ele ram, it odra ugelelabs, amut, opmeti, tetri, doida, uaic e ahola! Ha 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 ha! Ha funzionato! Sono libero! Ora posso fare tutto quello che voglio. Mi farò fare il calco della testa. Salve, padronion! Come va? Ehi, volevo chiederle come diventare uno Skylander. Immagino che dato che sono qui all'accademia già da un po', potrei saltare tutta la parte della domanda a discrezione. Skull, sei il familiare di X. Sai che non puoi essere uno Skylander senza di lei. Ma è questo il fatto! Ora sono un agente libero. Visto? Non c'è nessuna sfera intorno alla mia testa. Cosa? Come è successo? Ho recitato l'incantesimo per spezzare il legame con X. Grazie! 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 Grazie!